Allora facciamolo insieme questo grande finale, siete pronti? Dovete cantare molto! Tutto in fretta bisogna partire, ci aspetta già un'altra città. L'auto ci attende e cupida, e la conta decide chi guida. Voglio stare seduto davanti, che i chilometri oggi sono tanti. Facciamo il pieno e poi via. Il pranzo spigiano è la vista, il mio autografo per il pianista. Cento l'euro non pesa la frutta, il mio dono è il pranzo. Cento l'euro non pesa la frutta, il mio autografo per il pianista. Cento l'euro non pesa la frutta, il mio autografo per il pianista. Cento l'euro non pesa la frutta, il mio autografo per il pianista. Cento l'euro non pesa la frutta, il mio autografo per il pianista. Grazie.